Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovo video. Scusate un po' la location, c'è il mio divano di pelle, come sapete il divano di pelle è sempre un investimento perché appunto non si zozza con tutto quello che ci fai sopra. Scusate gli occhi che sembrano un po' sfranta ma li avevo truccati, adesso li ho struccati e sembro appunto un po' un po' appunto fatta ma perché mi è cascato di ogni negli occhi, scusate anche i capelli che sembrano Shakira e Nips d'Online. Oddio ragazzi, non riesco a parlare perché adesso vi spiego quello che è successo, praticamente come ho detto prima mi stavo struccando, mi è finito prima lo struccante negli occhi che brucia come se fosse borra e non ci ho visto per dieci minuti, poi ci ho messo la prep, mi è finita negli occhi pure quella che come sapete la prep è lenitiva. Oddio ragazzi, io veramente non so fare le riprese perché ho sempre il doppio mento, come sapete la prep è lenitiva, mi è finita negli occhi, non ci ho visto per quindici minuti e diciamo adesso dopo mezz'ora sto iniziando a riprendere la vista, quindi appunto se in questo video sono un po' fatta è perché non ci vedo e diciamo quando ti finisce qualcosa che brucia negli occhi è sempre un'esperienza mistica no? perché ti arriva il cervello e ti fai certi viaggi ragazzi che non vi dico, allora come avete letto dal titolo in questo video mangerò la pasta alla panna, una pasta cremosa non so come la chiamerò, perché appunto il mio ragazzo non mi ha comprato il KFC, praticamente ragazzi io ho un problema, ogni volta che faccio la pasta come vedete mi viene di un secco, ma di un secco ragazzi, cioè guardate quanto è secca, se voi, vabbè che tipo l'ho lasciata a mezz'ora così perché poi mi erano andato a struccare a preparare, però se voi sapete come si cucina la pasta, mi prego ragazzi scrivetemelo qua sotto perché in tutti i mukbang che vedete che faccio è praticamente super secca, o perché ci metto troppo formaggio ragazzi e quindi la crema se ne va, scusate non mi devo muovere tanto se no sfondo il tavolino ragazzi, e si che sarebbe epico, però appunto praticamente come avete letto dal titolo, praticamente uno dei miei tanti ragazzi mi doveva prendere il KFC perché io volevo fare un mukbang, cioè ormai io top fan di Riccardo Benedetti e Melissa Tani, anche se lui non mi ha cagato però appunto, io ho visto il loro video dove facevano il mukbang al KFC con il menù di sfera e pasta, e appunto volevo farlo anche io, quindi ho scritto a uno dei miei ragazzi sentiamo mi ordini con globo, mi ordini con globo questa cosa così ci faccio il mukbang, io non so se è vero però secondo me lui ha inventato una scusa perché mi ha detto che dalla zona sua non può ordinare praticamente perché ci sta tramite globo che lui è già iscritto, ci sta la localizzazione sua quindi non può ordinare da casa sua un globo per casa mia, però secondo me era un po' una scusa, quindi fatemi sapere se lui si era... Oddio ragazzi, mi è sembrato veramente di vedere un fantasma, forse era Gerard, oddio ragazzi, cioè mi viene a piangere per quanto mi sono spaventato, però appunto fatemi sapere se appunto era una scusa, perché se lui si è inventato una scusa appunto lo lascio, perché non mi dite le bugie a me, capito? Fatemi sapere appunto qua sotto se era una scusa, perché se si è inventato una scusa lo lascio perché appunto mi ha lasciato a stomaco vuoto, io appunto volevo il pollo fritto e invece mi sto mangiando questa pasta secca ragazzi, che in teoria deve essere cremosa, questa vi sembra cremosa? Quindi vi prego ragazzi, se sapete cucinare scrivetemelo qua sotto perché io voglio portarvi dei bei mukbang, ma sono il primo a non saper cucinare, quindi ordino sempre fuori, però i miei ragazzi come vedete sono un po' dei cafoni, un po' spirorci però appunto... Pasta cremosa un po' secca 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 Rieccomi ragazzi, fatemi fare l'immagine di copertina Ok, dovrebbe essere venuta Mi stavo dicendo che praticamente oggi io volevo portare una ricetta carina, ma no come sono sfranta Cioè, è carino perché è quel sfranto sexy, capito? Che tu dici, anche se sono comunque sfranta una botta, gliela darei, no? Quindi grazie ragazzi, che comunque anche se sono sfranta sono sempre una gnocca Però appunto, per dirvi, io oggi vi volevo portare una ricetta carina, ovvero la frittata di pasta che una mia amica mi ha dato la ricetta E solo che ragazzi, è lunghissima da fare, perché praticamente prima devi cuocere la pasta Poi ci devi mettere il sugo, quindi devi fare il sugo Poi ci devi mettere le uova, quindi dico Diciamo che magari un giorno che farò la pasta al sugo Poi con gli avanzi ci farò appunto la frittata di pasta Che è uno dei miei piatti preferiti ragazzi, io lo amo Ah, non so appunto cosa vi ho detto prima, però appunto Probabilmente io oggi volevo portare il pollo fritto, ma il mio ragazzo mi ha scammato Ormai ex ragazzo Che comportazione è questa? E perché appunto, seguendo Riccardo Benedetti e Melissa Tani, che ormai sono top fan loro Ho visto che me hanno fatto questo mukbang, quindi ho deciso di farlo, volevo farlo anche io Solo appunto, magari ve lo porterò un'altra volta Perché c'è appunto, adesso da KFC ci sta il menu di sfera e basta E niente, quindi ve lo volevo portare Scusate il ruttino Scusate un altro ruttino Ragazzi, però appunto Ci stavamo tante cose che vi volevo dire Anche perché appunto Scusate ragazzi Ultimamente mi sono avvicinato molto Mi sono avvicinato molto Al mondo di TikTok E lì è stata una scoperta molto positiva Perché Magari è una mia colpa Ma io gente molto giovane Tipo 18 anni 19 anni 17 anni Non l'ho mai frequentata Perché mi sentivo un po' A disagio, capito? A frequentare gente un po' più piccola Però diciamo Appunto Ho scoperto questa generazione su TikTok E mi ha fatto molto piacere Come vivono un po' tutti Senza limiti Senza freni Senza etichette Perché magari adesso Ho visto molti TikTok Di ragazze che dicono Abbiamo le gambe pelose Le braccia pelose Comunque Va benissimo così Noi non vogliamo appunto cambiare Così così E ho visto anche Altri TikTok Di maschi Anche se siamo eltero Vogliamo indossare Lo smalto Quindi Facevano questi TikTok Cioè le donne Facevano i TikTok Dicendo che Nel 2020 Ognuno dovrebbe essere libero Appunto Di fare ciò che vuole Col proprio corpo Nel senso Pure se sono pelosa Rimango bella Che è un messaggio Che io condivido E invece i maschi Dicevano Pure se siamo etero E vogliamo indossare Tipo I crop top E Avere lo smalto Non c'è niente di male E diciamo Dopo due minuti Mi sono riuscita a spiegare Ragazzi Scusate Sono un botto Sta in un altro pianeta Oggi Ma penso si vede E Diciamo che mi ha fatto Molto molto piacere Perché dico Dio Pensa Che bello Crescere Cioè Vivere L'adolescenza Con questo clima Perché io mi ricordo Quando io ero Adolescente Neanche tipo Neanche si potevano fare I matrimoni gay E Era già un tabù È più depilato È più depilato di me È più depilato di me Ha le sopracciglia più belle di me No Invece Invece L'era dove Sono cresciuto io Diciamo Era l'era Un po' dove Noi abbiamo dovuto Spingere Ma non voglio fare Tipo La Maria Teresa Di Calcutta Della situazione Perché a me Mai nessuno Mi ha cagato Però appunto L'epoca in cui Ho avuto l'adolescenza Era Diciamo L'epoca dove Noi abbiamo fatto Noi parlo perché Io sono gay Capito Noi abbiamo fatto tipo Abbiamo spianato la strada Non so come dirvi Se per dirti Io che avevo i capelli colorati Ero già visto In modo strano Da tante persone Invece Adesso siamo arrivati Al punto dove Un maschio etero Può indossare lo smalto E anche i crop top E comunque rimanere Un maschio etero E non essere giudicato Capito Avete capito Il mio pensiero Quindi ho letto Mio Dio che bello Cioè chissà che bello Crescere Con questa libertà Capito Cioè perché comunque L'adolescenza è un periodo critico Per gran parte delle persone Io ero sempre una porca Però dico appunto Scusate ragazzi Penso che oltre al latte di sogno Io sono allergico alla pasta Perché ogni volta Che la mangio Ragazzi Mi attappo tutto Però appunto Ho detto Mio Dio che bello Pensa crescere In quest'epoca Perché io ero sempre una porca Però appunto Essere una porca In questa Diciamo Adolescente In questo mondo Così aperto Come ora Ne avrei fatte Di ogni Mi sarei divertita Molto Ma molto Di più Quindi Ho pensato Dio Fortuna di questi ragazzi Che comunque Al di là della situazione Che stiamo passando E comunque È bello Crescere In un ambiente Così stimolante Infatti Diciamo Io ho Molte speranze Nei giovani Perché secondo me Faranno un sacco di cose Cioè perché comunque Per dirvi Noi siamo stati quelli Che abbiamo Io parlo Quelli della mia era Capito Così capite Noi siamo stati quelli Che hanno dovuto Spianare la strada Nel senso Non so se vi ricordate Qualche anno fa Tutti i youtuber Che uscivano Facendo i loro video De coming out E quindi noi Diciamo Le cose Sì ce le siamo godute Ma sempre Con quel limite No Con quella paura Pure se non ce l'ho mai avuta Del giudizio Invece questi ragazzi Comunque si stanno vivendo Questa adolescenza E in questa atmosfera Secondo me stupenda Dove Non ci sono limiti Non ci sono Così tante etichette Ed ognuno è libero Di essere Ciò che è veramente Che è veramente Secondo me Un passo Avanti E da un lato Mi fa piacere Vedere come In pochi anni Per dirvi In 4 3 5 anni La situazione È veramente Cambiata così No E appunto Secondo me Lo sono fortunati A crescere In questo ambiente Come Lo è adesso Quello dell'adolescenza Perché Come lo vedo io Adesso È un botto Un botto stimolante Perché se uno Diciamo A quell'età Già si sente libero E già si sente Appunto Apprezzato dagli altri È molto più stimolato A ricercare prima I suoi valori A ricercare prima Le sue capacità E quindi Secondo me Questi ragazzi Faranno Un sacco Di cose Un sacco Di cose In grandi Magari ci saranno Un sacco Di artisti E secondo me Appunto Ci daranno Un sacco Di soddisfazioni Questi ragazzacci Tappellabio Bacistellari Mi sa che la pasta Cioè come si dice Mi sa che la cosa Che la frittata Di pasta La farò direttamente Con questa pasta Domani Cioè dai ragazzi Questa intera Dove essere Una pasta cremosa Voi dove la vedete La crema Io non la vedo Cioè è secca Come Il mio futuro E riaccomi ragazzi Che praticamente Per sbaglio Mentre parlavo Ho cliccato Una notifica Di Instagram Perché Cioè A me sta cosa Mi snerva Perché praticamente Un mio Reels È diventato Non penso Che sia diventato Virale Però È da due giorni Che ogni minuto Ricevo un like In quel Reels E non lo sopporto più Cioè Non capisco Come fa la gente famosa A ricevere ogni minuto Tutte quelle notifiche Perché a me Mi stanno Infastidendo Cioè Dico tipo Che palle Dico Non cagate più Sto Reels Che io non posso stare Ogni minuto Con una notifica Che mi arriva No Dio scusate ragazzi Mi stavo soffocando Però appunto Per sbaglio Ho premuto Su questa notifica E sono finito Su Instagram Se non mi seguite Seguitemi Baby Gay Music Come sono bella Riccia Però appunto Diciamo Ho voluto fare Questo video Perché volevo Condividere con voi Questo mio pensiero Che secondo me È stupendo Crescere Diciamo Ho speranza E ho scoperto Questi giovani Appunto Grazie a TikTok Perché comunque Io diciamo La media delle persone Che ho sempre frequentato Andavano Dai 40 50 60 anni in su Quindi Non lo so Ho sempre visto Ragazzi giovani Con un po' Tipo Sono troppo piccoli Per me No Anche perché Comunque Vabbè In generale È un mio limite Non piace Tra virgolette Stare Con persone Tanto più piccole Di me Sono sempre Con persone Un po' Più grandi Però Vedere che sono Mi sento come Una zia felice Capito Vedere che Comunque si divertono Mettono le mani in pasta Sono così Consapevoli di tutto Mi fa molto piacere E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto È stato un video Un po' A cuore aperto Volevo condividere Con voi Questo mio pensiero Pure qualche altra cosa Volevo condividere Ma mi sono dimenticato Adesso Se ho voglia Vado a fare qualche TikTok Ma non credo Ragazzi Grazie Per aver seguito Questo video La so che ho mangiato Pochissimo Ma raga Non so cucinare Volevo il pollo fritto Il mio ragazzo Non me l'ha comprato E questa pasta È più secca Del Sahara Anche se Dovesse Anche se Dove essere Una pasta cremosa Non so Dove ho sbagliato Ragazzi E niente Mi sa proprio Che questo ragazzo Lo lascerò Fatemi sapere E appunto Qua sotto Se secondo voi Lui Ha letto Una bugia O se è vero Cioè ragazzi Spero che il prossimo Bookman Che farò Si era Quello su Key FC Col menu Di sfere Basta Sempre se quando vado Là magari Non l'hanno già Levato Come mi è successo Col crispy al pollo Che ancora ci sto sotto Non l'ho superata Come cosa Che non lo fanno Più al McDonald Grazie per avermi seguito Cioè ragazzi Guardate come sono Gnoccariccia Cioè c'è gente pure Che non mi compia Il Key FC Grazie per avermi seguito Love you Baci stellari